Ragazzi, 10 secondi allo shop, vediamo un po' quello che uscirà comunque questa sera E dovrebbe uscire soprattutto il nostro starter pack Vediamo un po', vediamo un po' Un secondo ragazzi Bella merda, yeah! Oh, vetturino, ragazzi, la novità Allora, scegli il tuo stile E' uscito il pennuto qua Che cagata assurda Rottissima, ragazzi Poi c'è anche la donna E poi ragazzi c'è il bastone dell'araldo E il selloro del tavlano No, brutissima Poi ragazzi, la novità che è il vetturino Eccola qui Non la shopperò mai E poi c'è anche comunque il colpo di frusta La donna che esce sempre Nello shop Beh, c'è il suo piccone E ci dovrebbe essere anche il loro del tavlano Sì, il pedina Il taxi Poi c'è il cuore vero Poi ragazzi, c'è il specialista sul rivalista Mamma mia C'è Encomi Questo è bello delle rose, ragazzi C'è Hyperion C'è Stuzzicatendi, ragazzi Mamma mia Ragazzi, c'è il passo sicuro Vediamo un po' lo starter pack Ragazzi Nulla Momentaneamente, ragazzi Ancora nulla Al riguardo dello starter pack Secondo me, ragazzi È disponibile Già su Già su PS4 Adesso proverò A riavviare A vedere se c'è lo starter pack Comunque ragazzi Voi come al solito Fatemi sapere sotto nei commenti Quello che ci sopperete E noi ci vediamo Al prossimo video Alla prossimo video Alla prossimo video Alla prossimo video